La Nazionale Italiana Senior ha iniziato il suo cammino verso i World Skate Games di Novara 2024, in programma dal 16 al 22 settembre. I 13 atleti convocati dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci si sono ritrovati nel centro federale Fersa di Recoalo Terme a Vicenza per il primo raduno in vista della rassegna. Il raduno della Senior si è svolto in contemporanea con quello dell'Under 19. Gli azzurri torneranno a Recoalo dal 25 al 27 agosto e poi partiranno alla volta di Cardaniola per il Golden Cut 2024 in programma dal 29 agosto al 1 settembre. In Spagna l'Italia se la vedrà nell'ordine con Catalunia, Francia e Portogallo. Questi convocati portieri Riccardo Niata del Forte dei Marmi, Bruno Sgaria del Trissino, Stefano Zampoli del Trissino, esterni Morgan Antonioni del Lodi, Davide Banini del Follonica, Giulio Cocco del Trissino, Francesco Compagno del Lodi, Alessandro Faccinna del Lodi, Davide Gavioli del Trissino, Francesco Ipinazzara del Forte, Andrea Malagori del Trissino, Alberto Pozzato del Bassano, Alessandro Verona dello Sporting. Nello staff, insieme ad Alessandro Bertolucci, commissario tecnico, anche Mirko De Gerone, allenatore, preparatore dei portieri Leonardo Barozzi, preparatore atletico Andrea Bertinato.